E' rientrato oggi in Italia Vincenzo Macri, il 53enne ritenuto esponente apicale della Cosca, commisso di Siderno, arrestato lo scorso giugno all'aeroporto di San Paolo, in Brasile, mentre tentava di raggiungere Caracas, dove viveva da qualche tempo utilizzando false identità. Il ricercato, figlio di Antonio Macri, detto il boss dei due mondi, gestiva, secondo le indagini, il narcotraffico fra Sud America ed Europa. Dal settembre 2015 si era sottratto all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, emesso dall'autorità giudiziaria regina per associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emesso nell'ambito dell'indagine denominata Acero Connection, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. All'arrivo di Macri a Fiumicino, scortato dagli agenti dello ship della Criminal Poll, sono state espletate le formalità dell'arresto. Macri è arrivato all'aeroporto di Fiumicino alle 6.25 a bordo del volo di linea all'Italia da San Paolo. Appena sbarcato, il 53enne è stato scortato dalla Pollaria negli uffici della Polizia di Frontiera per il fotosegnalamento e per le procedure dell'arresto sul territorio nazionale. Da quanto si è appreso, adesso si trova nel carcere di Re Bibbia.